Ciao, benvenuto in un nuovo video sugli animali del mondo. Oggi scopriremo di più sulla vita degli scogliattoli nei boschi. Lo scogliattolo è un piccolo mammifero roditore, appartenente alla famiglia Shuridae, che comprende circa 500 specie. Sono presenti in tutti i continenti, ad eccezione dell'Australia e dell'Antartide. Sono animali forti e resistenti, il cui corpo è preparato per sopravvivere ai cambiamenti e alle avversità climatiche. Questi roditori hanno una dimensione media, con un'altezza di circa 30 cm e una pelliccia abbondante, in tonalità che vanno dal marrone al rosso. Il loro corpo è leggero e sottile, per consentirgli di guadagnare velocità senza perdere destrezza. Possiedono zampe molto forti, dotate di unghie affilate, con cui possono graffiare il terreno e quindi raccogliere frutti e semi. Una delle loro caratteristiche fisiche più straordinarie è la lunga coda, che colpisce a prima vista. È coperta da una voluttuosa pelliccia che gli conferisce un aspetto soffice. In effetti, la coda di uno scogliattolo adulto misura quasi come il suo stesso corpo e può superare i 25 cm di lunghezza. Dobbiamo sottolineare che una tale coda gioca un ruolo fondamentale nella vita degli scogliattoli. La sua funzione principale è di permettere a questi roditori di stabilizzarsi quando corrono e stanno su due zampe. Inoltre, aiuta anche a migliorare la qualità di corsa e la velocità di questi animali, nonché a ottimizzare i salti tra gli alberi. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. La vita degli scogliattoli nei boschi è molto attiva e piena di sfide. Gli scogliattoli devono trovare cibo, costruire il loro nido e proteggere se stessi e la loro progenie dai predatori. Per trovare cibo, gli scogliattoli raccolgono semi, bacche, frutta e noci che immagazzinano in diversi luoghi per l'inverno. Gli scogliattoli terricoli si muovono sul terreno alla ricerca di cibo, mentre quelli volanti sono in grado di spostarsi da un albero all'altro in cerca di cibo. Per proteggere se stessi e la loro progenie, gli scogliattoli costruiscono il loro nido in luoghi sicuri, come le cavità degli alberi o le fessure nelle rocce. I nidi degli scogliattoli sono fatti di foglie, ramoscelli e altre materie vegetali e possono essere riparati e riutilizzati anno dopo anno. Gli scogliattoli sono animali solitari che si incontrano solo per accoppiarsi. Durante la stagione degli accoppiamenti, gli scogliattoli competono per accaparrarsi le risorse alimentari e i potenziali partner. Dopo l'accoppiamento, le femmine gestiscono da sole la loro progenie e si prendono cura dei loro piccoli fino a quando questi non sono in grado di sopravvivere da soli. In generale, la vita degli scogliattoli nei boschi è piena di sfide, ma anche molto gratificante. Questi animali sono molto abili nell'adattarsi ai loro ambienti e nel trovare le risorse di cui hanno bisogno per sopravvivere e prosperare. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione.